Silvano Somma, presidente dell'associazione Prima Aurora, associazione che si occupa della salvaguardia del Parco Nazionale del Vesuvio e siamo qui oggi per parlare di un evento che avrà luogo domenica 5 luglio. Sì, abbiamo deciso di lanciare questo evento domenica 5 luglio, un'evento, una giornata in ricordo di quelli che sono stati i grandi incendi del 2017 che come ricordiamo ebbero inizio proprio il 5 luglio che casualmente quest'anno capita proprio di domenica. Noi abbiamo fatto una richiesta istituzionale agli enti, sia al Ministero sia al Parco Nazionale per istituire questa giornata in modo ufficiale e nell'attesa che questa giornata venga accolta abbiamo deciso comunque di celebrarla insieme a tanti altri cittadini e associazioni che saranno presenti domenica. Come si svolgerà la giornata? La giornata è impostata sotto forma di una passeggiata naturalistica in cui tutti quanti insieme potremo percorrere un breve tratto di quella che è la via principale che porta al Vesuvio e durante questa passeggiata ci saranno vari interventi che saranno sia di tipo forestale, quindi potremo apprezzare anche grazie al panorama quelli che sono poi gli impatti dell'incendio sul territorio, sia anche di carattere sociale e culturale. Come è cambiato il Parco dall'incendio del 2017 ad oggi? Il Parco è cambiato quasi completamente. Ricordiamo che l'incendio ha percorso circa l'86% di quella che è la superficie boscata del Parco e quindi sono state colpite quasi tutti i boschi del Parco Nazionale. Ovviamente le pinete sono state quelle che hanno avuto l'impatto maggiore e infatti allo stato attuale la maggior parte delle pinete quasi non esiste più. Poi in secondo luogo sono stati colpiti anche tutti quelli che sono i cedui del Montesomma o anche dei versanti a sud ed anche hanno avuto un bel impatto anche se sappiamo che queste piante hanno una resistenza maggiore, una resilienza maggiore nei confronti del fuoco. Quindi attualmente noi e le future generazioni ci troveremo a vivere un Parco che è completamente diverso da quello che ricordiamo ed è proprio per questo noi abbiamo deciso di istituire questa giornata perché quel giorno, quei giorni hanno segnato per sempre il destino del Parco e per far sì che eventi simili non accadano mai più è importante ricordarlo e soprattutto è importante che le persone sentano proprio questo territorio perché il Parco oltre ad un bene naturalistico ed ambientale è innanzitutto una comunità e questa comunità va resa partecipe di quella che è la vita del Parco e va resa anche premiata per quello che sono comunque le sue azioni e quindi infatti noi nella nostra richiesta abbiamo chiesto che proprio in questa giornata ci fosse l'accesso gratuito al Gran Cono del Vesuvio che è attualmente l'attrazione maggiore del Parco nazionale. E invece la questione Covid? Gestiremo nel massimo della sicurezza l'evento, infatti già tutte le persone devono comunicare la loro partecipazione quindi sapremo anche qual è il numero di persone, avremo i recapiti di ognuna delle persone che parteciperà che dovranno unirsi ovviamente dei dispositivi di sicurezza quali ad esempio la mascherina e avendo comunque ampio spazio a disposizione potremo rispettare quella che è la distanza di sicurezza prevista dai decreti ministeriali.